Prodotti tipici locali e regionali e sapori di vini dal vinaio di San Marcello. Nella sua caratteristica bottega enoteca, la famiglia Magrini ti aspetta con la sua simpatia e con tantissimi prodotti deliziosi. E questo Natale, non fare un regalo qualsiasi, assaggia le specialità presenti in bottega e scegli cosa mettere nelle tue ceste natalizie, confezionate con eleganza e gusto. Donne dal vinaio di San Marcello, trovate quello che avete sempre sceltato.